Il ragno violino è venuto alla ribalta ultimamente, tu ne sai qualcosa insomma di questo ragno violino? Sì, allora è un ragno che è presente in tutta Italia da tantissimo tempo e anche in tutto il Mediterraneo e l'ambiente principale di questo ragno sono le case, quindi è molto frequente trovarlo nelle case. In Italia ci sono 1600 spessi di ragno, ma solamente due di queste sono pericolose, che sono appunto il violino e la malmignatta, che è la vedova nera mediterranea. Tutti gli altri non sono pericolosi. Quasi tutti i ragni hanno un veleno, solamente qualche raro caso non ce l'ha. Il veleno viene utilizzato per cacciare e raramente per difendersi. Cos'altro possiamo dire di questa specie? Come ci dobbiamo comportare? Se possiamo avere delle precauzioni, se si può avere un atteggiamento corretto? Il ragno violino frequenta nelle case tutti quei posti nascosti, tutti quegli anfratti stretti, dove lui ama rifiusarsi durante il giorno. Durante la notte può uscire e stare nei paraggi. Chiaramente una persona che non è esperta tende a classificare qualsiasi ragno come ragno violino. E quindi la prima cosa da fare è magari fare una foto e postarla in dei gruppi Facebook fatti apposta, c'erano delle associazioni fatte apposta, e domandare a loro se erano in veleno, altrimenti è meglio non fare identificazioni azzardate. Se uno vuole essere sicuro, più sicuro di non avere ragni in veleno in casa, bisognerebbe cercare di tappare tutte quelle zone che appunto consentono dei piccoli anfratti, per esempio battiscopa o dietro i quadri. Quindi cercare di evitare queste zone. Quindi il morso è pericoloso o no? Allora, il morso può essere pericoloso. Come dicevo prima, il ragno cerca di calibrare il veleno da consumare perché potrebbe trovare una preda dopo e quindi non mangiare, chiaramente. Quindi ci sono i morsi secchi, ci sono i morsi con un po' di veleno, non quelli con un po' più di veleno. Una volta che ti morde, c'è un ampissimo spettro di manifestazioni che vanno sotto il nome di loxoscelismo. Possiamo andare dal normale tubercolo fino ad una necrosi molto estesa, molto più estesa. Tutto dipende appunto da quanto veleno ti ha iniettato e da quanto tu sei sensibile al veleno. Ebbene, prendere il ragno e portarlo, anche morto, nessuno dice niente, portarlo alla pronto soccorso per una identificazione. Non fare identificazioni anzardate perché spesso si sbaglia. E qui, quello che ti fanno in ospedale non è darti un antidoto contro il veleno perché non esiste in Italia, non si utilizza. Quello che ti fanno è guardarti, controllarti. Se hai una piccola manifestazione, rimani lì, magari ti fanno qualcosa contro il dolore e ti lasciano stare. Se invece sviluppi una necrosi, sviluppi qualcosa di più interessante, allora iniziano a intervenire, ma non contro il veleno, ma contro la necrosi. Perché magari ti può partire un'infezione. In buona sostanza dobbiamo stare un po'... Sì, siamo tranquilli, è un animale che ha sempre gestito qua. Non è questo problema che sta nascendo, insomma.